c'è un'attività, non c'è una sua. Allora, il mio pazzo dì e io io ci fai risulta. Tu direi che sei da mare, non c'è mezzo. E io, la puntuna che sei da mare, è giusto che fai quello che deve. Ma sono te, ti ripeto, metti! E io ci fai da mare, e io ci fai da mare. E poi ci siamo da mare! E poi ci chiamiamo i figli, se continuiamo, non più dai, perché tu resti della casa prima? Tu resti, devo dare a cercare perché ce la metto! Ma io, perché ci viene da mare? la città 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.